salve cari amici e benvenuti ad una nuova lezione sit con me gennaro e il nostro caro amico tiramisù e oggi sono venuto un po prima perché così comincio la lezione insieme a voi visto che l'ultima volta sono arrivato un po tardi e tiramisù ha cominciato la lezione da solo che ha fatto tutto lui a proposito ma vediamo un po se è arrivato tiramisù ci sei tiramisù ciao gennaro e ciao amici come state? noi bene ma mi sa che tu non stai tanto bene e purtroppo no che dolore che male che cosa è successo tiramisù ti sei fatto male sei caduto no no mamma mia che male ma raccontaci un po cosa è successo hai bisogno di aiuto? no no non ti preoccupare questo fine settimana sono stato a roma e mentre camminavo per strada in piazza venezia ho conosciuto una ragazza ah bene e proprio bene non direi perché cosa è successo? l'ho invitata a prendere un aperitivo e siamo andati in un bar ci stavamo divertendo lei era anche molto simpatica e così ho pensato di farle un bel complimento un complimento che funziona molto con le extraterrestri del mio pianeta ah e quale farebbe questo complimento? le ho detto ma lo sai che hai proprio un bel naso grosso grosso un bel naso a patata? no no le hai detto proprio così lo sai che ha un bel naso un grosso naso a patata proprio così le hai detto? si e lei si è arrabbiata e mi ha dato tre schiazzi e ci credo oh mamma mia cose da pazzi tu le hai detto che aveva un bel grosso naso a patata ma perché? io le ho fatto un complimento ma sarà un complimento per una extraterrestre del tuo pianeta ma per una donna della terra questo non è un complimento anzi è una cosa bruttissima da dire oh caspita che dolore e adesso che faccio? e adesso metti un po' di ghiaccio metti qualcosa per farti passare un po' il dolore no? no no per questo non c'è problema il dolore mi sta passando ma mi sento in colpa che cosa si può fare? eh mi sa che purtroppo non c'è niente da fare eh è una situazione irreparabile in Italia anzi sulla terra questo non è un complimento da fare ad una donna eh ma io purtroppo non lo sapevo pensiamo ad altro dai hai trovato nel vocabolario il significato della parola irreparabile? no ma l'ho capito adesso quando hai detto che questa è una situazione irreparabile e cioè? che è una situazione a cui non c'è rimedio ormai non si può risolvere non c'è soluzione perché ormai il disastro è già fatto eh certo tu l'hai chiamata l'hai insultata dicendo che ha un grosso naso a patata adesso la ragazza non ti vorrà più vedere infatti sono molto triste ma magari una soluzione la troviamo dai poi ne parliamo in privato parliamo a quattro occhi da uomo terrestre ad uomo extraterrestre cerchiamo di trovare una soluzione allora eh quindi situazione irreparabile che cos'è? è una situazione a cui non c'è rimedio che non ha una soluzione purtroppo perché il guaio ok il danno è già stato fatto vediamo un po' adesso che cosa potremmo dire in questo caso? tirami su non sapeva che dire qui sulla terra ad una donna hai un bel grosso naso a patata in realtà non è un bel complimento ma purtroppo gliel'ha già detto e la ragazza offesa gli ha dato non uno ma ben tre schiappi sì 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 scusami tirami su eh ma è proprio una situazione assurda comunque mi sa che tu da questa situazione hai imparato tantissimo allora adesso cerchiamo un po' di capire che cosa potremmo dire in una situazione irreparabile come questa guardate un po' per qualche minuto queste frasi ok incomplete cercate un po' di completare gli spazi vuoti siamo quindi in una situazione irreparabile e attenzione periodo ipotetico di terzo tipo dell'irrealtà dell'impossibilità che descrive una situazione irreparabile guardiamo un po' allora pronti? no? volete ancora un po' di tempo per pensarci? va bene guardiamo ancora un po' allora tirami su che cosa potremmo dire per descrivere questa situazione irreparabile come completiamo gli spazi dei testi che abbiamo visto? qual è il periodo ipotetico? allora vediamo un po' se io non dicessi alla ragazza attento è una situazione al passato tu l'hai già detto quindi il danno ok? è già fatto ah si se io non avessi detto alla ragazza hai un bel naso a patata lei non mi avrebbe dato tre schiaffi esatto ok e la seconda parte? se io non avessi detto alla ragazza hai un bel naso a patata ora non mi fossi sentito no? attenzione qui immaginiamo una situazione riferita al presente infatti abbiamo ora ah ok ora non mi sentirei la colpa bene esatto quindi è chiaro il significato adesso seguiamo un po' la spiegazione allora bene andiamo a vedere un po' le diverse frasi andiamo ad analizzare la struttura allora nella frase nelle frasi se io non avessi detto alla ragazza hai un bel naso a patata lei non mi avrebbe dato tre schiaffi allora la frase subordinata quindi la secondaria è introdotta dal se quindi periodo ipotetico più trapassato del congiuntivo del verbo dire avessi detto più il condizionale composto del verbo dare avrebbe dato ok quindi in questo caso nel nostro esempio abbiamo in tutti e due in tutte e due le frasi sia la subordinata che la ragionta abbiamo una situazione negativa quindi diciamo delle frasi negative ma questo dipende sempre dalle situazioni quindi se io non avessi detto alla ragazza hai un bel naso a patata ma purtroppo gliel'ho già detto gliel'ho detto ok lei non mi avrebbe dato tre schiaffi ma lei purtroppo mi ha dato già questi tre schiaffi quindi il danno è già stato fatto quindi non c'è soluzione ecco perché diciamo situazione irreparabile andiamo alla seconda diciamo frase alla seconda situazione se io non avessi detto alla ragazza hai un bel naso a patata ora non mi sentirei in colpa allora sempre il periodo ipotetico introdotto dal sé quindi la frase secondaria introdotta dal sé più il trapassato del congiuntivo avessi detto come nella situazione come nella frase precedente più ora o anche adesso più il condizionale semplice mi sentirei in colpa ok quindi il sé introduce la situazione al passato periodo ipotetico la parola invece ora adesso l'indicatore temporale introduce una situazione riferita al presente ma che non rispecchia non riflette non rappresenta la realtà è semplicemente frutto della nostra immaginazione perché la vera realtà è che io invece mi sento in colpa ecco perché in questo caso utilizziamo non mi sentirei in colpa perché descriviamo una situazione che non è reale ma è frutto della nostra immaginazione allora tutte e due queste frasi ok quindi sia la prima se io non avessi detto alla ragazza è un bel naso a patata lei non mi avrebbe dato tre schiaffie e se io non avessi detto alla ragazza hai un bel naso a patata ora non mi sentirei in colpa fanno parte di quello che chiamiamo periodo ipotetico di terzo tipo dell'irrealtà dell'impossibilità quello che noi abbiamo definito che è una situazione irreparabile tutto chiaro tirami su sì ma mi fa male eh ti capisco su dai che passerà hai qualche domanda da fare? sì posso dire se non offendevo la ragazza lei non mi dava tre schiaffi perché ho sentito molti italiani che usano questa struttura è più semplice sì infatti si usa molto questa struttura nell'italiano di tutti i giorni solo che quando parli praticamente con degli amici ok quindi in una situazione molto rilassata ma quando ci troviamo in una situazione formale quando parliamo con un professore un avvocato una persona che non conosciamo quindi usiamo lei è consigliabile utilizzare la frase che la struttura nel periodo ipotetico che abbiamo visto insieme con il congiuntivo e con il condizionale io do sempre questo consiglio quando si hanno dei dubbi su quale frase utilizzare è bene utilizzare sempre provate ad utilizzare la forma diciamo più corretta e non vi sbaglierete mai poi vedrete che più imparerete l'italiano più sarà facile per voi cercare di distinguere le due situazioni e utilizzare le due frasi diverse va bene? ok? tutto chiaro? ok Gennaro grazie mille io adesso vado perché sto proprio male ciao amici ok va bene dai ciao tirami su e stai attento stai attento soprattutto a quello che dici in Italia anzi sulla terra bene amici allora vi saluto anch'io ma prima di salutarvi voglio mostrarvi un'altra foto altre foto con una frase dov'è l'errore? provate a leggere questa frase a capire dov'è esattamente l'errore ok? ecco a voi bene capito dov'è l'errore? hm? cosa? hm forse registratevi su www.litalianoperte.com ed entrate su sit nelle info nelle descrizioni di questo video troverete la soluzione a questo quesito e capirete esattamente dov'è l'errore in questa frase ok? vi aspettiamo su sit e ricordate su sit pratichi l'italiano tutto l'anno ciao ciao